Buongiorno, eccoci al consueto appuntamento del martedì con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi parliamo di ospedale virtuale, ne parliamo con il professor Vittorio Bresadola che è direttore della scuola di specializzazione di chirurgia generale all'azienda sanitaria universitaria integrata di Udine. Buongiorno professor Bresadola, grazie per essere qui per parlarci appunto di ospedale virtuale e del centro di simulazione che recentemente si è arricchito di una nuova strumentazione. Grazie a voi per l'invito, assolutamente sì, proprio all'inizio della settimana abbiamo inaugurato il nuovo arrivo del centro di simulazione. Il centro di simulazione, come probabilmente molti di voi sanno, è uno spazio messo a disposizione dall'azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e insieme all'università hanno dato forma a questo ospedale virtuale che proprio lunedì ha visto l'introduzione di questo nuovo simulatore in ambito ostetrico. Stiamo parlando veramente di una simulazione avanzata e di uno dei più importanti simulatori che possiamo trovare al mondo. Parliamo un po' di numeri di questo centro di simulazione. Mentre attendiamo che arrivino anche le immagini che ci ha fornito proprio lo stesso professore lo stesso professor Bresadola. I numeri sono... il centro tanto è giovane, nel senso che si apre il 5 febbraio di due anni fa e in questi due anni è cresciuto, è cresciuto nei numeri fino ad arrivare a più di 2.000 accessi nell'anno passato con 270 eventi format confezionati. Le attività naturalmente vanno da attività di tipo istituzionale a attività invece per specialisti e professionisti dell'azienda. Nell'immagine in questo momento potete vedere alcuni degli strumenti che abbiamo al centro di simulazione. Gli strumenti possono essere strumenti molto semplici come quelli prima illustrati nel video o strumenti più complessi come i simulatori avanzati in campo ostetrico o della medicina d'urgenza. Ecco abbiamo visto la stanza di d'urgenza è proprio ricostruita fedelmente, ne avevamo parlato anche un paio d'anni fa proprio in uno speciale realizzato al centro di simulazione e quindi lì è organizzato praticamente come è organizzato un vero e proprio reparto in tutto e per tutto. La particolarità infatti di questo centro è quello di ricreare come giustamente lei ha detto un ospedale virtuale in cui gli ambienti sono simili a quelli reali. Questo perché? Perché chi si viene a formare al centro, questo è AL, altro simulatore avanzato di aria critica, su questo simulatore è possibile formarsi su tutto ciò che è il monitoraggio e le competenze dalle vie aeree all'aspetto cardiaco al circolo. Questi sono altri simulatori più semplici ma non che la semplicità sta con l'acquisizione di competenze banali, anzi ogni competenza necessita di un simulatore particolare. Quello che avete appena visto sono i simulatori in ambito chirurgico e come stavo dicendo il centro ripete ambienti che abbiamo in ospedale in modo che poi il professionista, lo studente, lo specializzando andando nelle sale di degenza, nelle semi intensive, nelle sale operatorie possa ritrovare anche la stessa strumentazione che usiamo sui nostri pazienti. Questo è lo spazio dedicato a una semi intensiva e come potete vedere è possibile qui simulare le erogazioni di gas e nonché i monitoraggi tipici di un ambiente critico. Ecco, è frequentato il centro di simulazione, si diceva, utilizzato da specializzandi, da studenti, ma anche da giovani, cioè da chi ancora frequenta la scuola superiore? Assolutamente. Se la prima mission di questo centro è quella istituzionale, universitario, quindi rivolto verso gli studenti e poi gli specializzandi, in realtà un valore aggiunto del centro è il fatto che sia aperto all'esterno, alla comunità. Tra le tante attività, nei progetti di alternanza scuola e lavoro, abbiamo già organizzato, quindi per studenti dei licei di Udine, sei campus in ambito sanitario e clinico e da due anni c'è un gruppo di ragazzi che viene tutto l'anno a lavorare al centro aiutandoci nelle nostre attività quotidiane. Ed è aperto anche i medici di medicina generale. Ecco qua, e qui vediamo il nuovo nato. Ecco, questo come vedete anche dal sottotitolo si tratta della simulazione ostetrica, è sicuramente uno degli ambiti più interessanti della simulazione. Quella che avete visto dopo invece è una simulazione in ambito radiologico. Ricordo che oggi, prima in Italia, al centro di simulazione, gli esami di abilitazione per i tecnici di radiologia vengono fatti in simulazione al centro. Ecco, il nuovo simulatore, quello ostetrico, appunto, è frequentato, cioè è utilizzato adesso da chi? Da chi si specializza in ostetricia? Certo, viene... Dalle ostetriche? Assolutamente, viene utilizzato dall'ostetriche, dai ginecologi e dagli anestesisti, perché attorno a Parto Oriente c'è chiaramente un team. Però mi piace stressare come, sottolineare come in realtà questo ambito di simulazione, quindi di formazione, vuole un po' uscire da quello che è il nostro... Ecco qua proprio si vede la simulazione è bellissima. L'ambito fisiologico, assolutamente, vedete come l'ostetrica ha movimenti e comportamenti assolutamente legati a un altissimo realismo. Sì. Ecco, dobbiamo, mi segnalano, ecco, vediamo ancora un attimo alcune immagini, perché sono veramente belle, sono immagini realistiche, e anzi, la ringraziamo per averci fornito appunto queste immagini. Fa molto piacere. Ecco, voi avete dei progetti particolari legati proprio anche a questo nuovo strumento. Sì, noi pensiamo che questo in realtà è un progetto che esce un po' da quello che è la nostra collaborazione tra Dipartimento di Medicina Universitaria e l'azienda universitaria, dell'ospedale, ma vuole essere un approccio formativo che va sul territorio e il progetto infatti nasce con la collaborazione anche di ospedali in rete che vanno quindi fuori da Udine. E qui stiamo vedendo invece un'altra simulazione, però direi di riprendere, no? Fra un attimo, perché dobbiamo farci una piccola pausa, ci trasferiamo per un attimo in una realtà del San Danielese, ci vediamo fra poco. Dottoressa Bagnato, di cosa ci parla? Oggi affrontiamo l'argomento della tecnologia e dell'impatto che hanno le nostre vite, se siamo noi a utilizzarla o lei a utilizzare noi. In particolare ci occuperemo dell'impatto che hanno i campi elettromagnetici nella nostra quotidianità. Campi elettromagnetici che sono onde, esattamente come quelle del mare, ma non si vedono e non si sentono. Sono onde naturali, sono quelle del campo terrestre e sono quelle al nostro interno, dovuti alle correnti elettriche che sono quelle che ci permettono di vivere. In questo habitat di campi elettromagnetici naturale va a inserirsi un campo elettromagnetico che può essere generato da un'antenna, da una televisione, da un forno a microonde o da un cellulare, quindi un qualche cosa che abbiamo costruito con le nostre tecnologie. Che cosa può accadere a questo punto? Beh, può accadere che intanto abbiamo un effetto dovuto al campo elettromagnetico in sé, come nel caso di un forno a microonde, si riscalda. Oppure possiamo avere degli effetti dovuti all'utilizzo, all'abuso più che altro della tecnologia, come si ha ad esempio nel caso dei cellulari che possono portare a degli insonni, a dei disturbi ben più importanti che possono andare da un dolore alla cervicale a vere e proprie fobie. A questo punto cosa dobbiamo ricordare? Dobbiamo ricordare che il campo elettromagnetico è un qualche cosa che ha quindi un effetto termico in sé, riscalda e dall'altra parte è interferisce. Interferisce con che cosa? Con noi stessi. Quindi che cosa possiamo dire in conclusione? Che acquisire alcune buone prassi, come non tenere il cellulare vicino all'orecchio del bambino, non utilizzare un tablet appoggiato alle gambe, non stare in vicinanza di un microonde in funzione, possono modificare l'effetto che queste tecnologie hanno sul nostro campo elettromagnetico. Dottoressa Bagnato, quale percorso dunque possiamo fare insieme? Il nostro personale, composto da medici, tecnici e formatori, può avvenire nelle vostre abitazioni, misurare le fonti di rischio come i campi elettromagnetici, ma anche il radon, il rumore e a questo punto insegnarvi dei piccoli accorgimenti per prevenire, eliminare o ridurre il rischio presente. Mi sembra di capire dunque che semplici abitudini possono migliorare la vita. Misurare le emissioni presenti negli ambienti in cui viviamo può fare la differenza. Esatto, contattateci. Ed eccoci nuovamente in studio con il professor Vittorio Bresadola. Stavamo parlando di un'altra simulazione, abbiamo cominciato a vedere delle immagini, anche queste immagini concesse appunto dal professor Bresadola. Vediamo se la regia è pronta. Si tratta di una, anche qui, simulazione. Simulazione? Questo è uno dei primi video che abbiamo fatto insieme alla Croce Rossa e all'area emergenza e lì soccorso e va a mimare una maxi emergenza, in particolare era per il ricordo del terremoto e quindi una maxi emergenza di legato al sisma. Questo è AL che era stato nostro primo acquisto e dimostra in maniera peculiare cosa avviene nel momento in cui il territorio, qualcuno chiama un allarme, chiama il 118, diciamo oggi il 112 e la catena di assistenza prende parte. C'è il soccorso al traumatizzato e in queste immagini poi il tutto si conclude con la centralizzazione del paziente nell'area di emergenza, in questo caso di Udine, attraverso l'utilizzo del soccorso. Questi video, oltre ad avere un fare chiaramente narrativo, però li utilizziamo regolarmente per la formazione sia dei nostri studenti, per esempio io questa mattina facevo proprio una lezione sul trauma e ho utilizzato nuovamente questo video, ma può essere anche molto utile per esempio per i neossunti in area di emergenza, per andare a spiegare, a vedere quali sono gli steps principali di questo tipo di assistenza, che per fortuna è molto rara e quando le cose sono rare è chiaramente molto più complesso formare le persone e la simulazione ha proprio questo vantaggio, poter simulare in situazioni, in setting molto reali, eventi rari. Professor Bresato, l'ha visto che mancano 40 secondi, quale può essere il futuro di questo centro di simulazione, di questo ospedale virtuale, che tra l'altro è uno dei pochissimi in Italia, ce ne sono altri tre, ma organizzati come questo mi pare di capire che non ce ne siano. Sì, assolutamente, è una peculiarità, penso che sia un valore aggiunto per tutti i cittadini della regione, la nostra idea era partire con una missione istituzionale, ma oggi la nostra idea è che il centro di simulazione deve essere a disposizione di tutti i professionisti, non solo della nostra città, ma di tutta la regione, perché io penso che le risorse che sono state introdotte in questo centro devono essere utilizzate da tutti i colleghi nell'ambito sanitario e non solo in ambito sanitario. Bene, grazie professor Bresato, la spero di averla ancora a nostro ospite, perché ci sono ancora tante cose da dire proprio su questo centro di simulazione. Grazie per essere stato con noi, ringraziamo i nostri amici telespettatori e ricordo che il prossimo appuntamento con la rubrica Family Benessere e Salute è per giovedì sempre alle 13.15. A presto, arrivederci. Grazie a tutti.